Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS godo come un porco dio che gole ma maraca ma ero dietro lo piano x da sotto c'è orix sotto è orix no 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 ma lo stavo facendo io da dietro l'ho detto il buco di merda morto o ho dov'è raga magari arrivava l'altro c'è anche un altro ma dove dicevo io morto lion questa mettila mettila nel video mettila mettila nel video ultimo attaccante squadra ultimo attacca dietro il giuro mi sembra che un modulo è una bellissima donna ti giuro è passata dagli le cuffie 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 per aver fatto testa di cazzo come a te buonasera signora guardi suo figlio è un drogato le giuro che è un tossico di merda ora quanto distrutto ho fatto stretto per fare bravo e la madonna ma come tu aspetta ma come tu aspetta da covacciana ma ma io ti ero corso in faccia con loro morto pulse oh morto lion è scariciale raga no morto uno ma non arrivano i messaggi che falla Alla